Bene, all'interno della finale di Glamour qui a Salso Maggiore Terme all'Hotel Regina abbiamo una delle protagoniste, MT Mirian Tirinzoni, la stilista d'eccellenza che viene da una splendida città che si chiama Colico, dunque da una cittadina a tanti chilometri, dalla tappa finale di Salso Maggiore, lei ha voluto esserci con i suoi gioielli, i suoi abiti, io li definisco gioielli perché sono cose uniche, artigianali, splendide. Ciao Mirian. Grazie Leo, sei sempre troppo gentile con me, ti ringrazio molto, ringrazio anche Massimo Sorrenti che mi ha voluta in questo evento e soprattutto ringrazio queste bellissime miss finaliste che si sono rese disponibili per indossare i miei abiti. Qua abbiamo la Mariangela Vanalli, una mia cara amica che ha già vinto parecchi titoli, che ci conosciamo da tempo e poi vi racconterà lei in particolare i titoli che ha vinto. Io vi parlo invece degli abiti che abbiamo mandato in scena, abbiamo mandato in scena dei pizzi molto particolari, made in Italy, un pizzo nero molto pregiato, un pizzo rosso altrettanto pregiato, delle paillettes e tantissime, tantissime sete, tutto made in Italy. Perché comunque il pezzo unico e il single unique design sono fondamentali perché questo significa fare moda sostenibile. Lasciamo la parola alla finalista che ha vinto il premio nella categoria delle trentenni, Mariangela Vanalli, una splendida miss che indossando un abito Mirian Tirinzoni ha conquistato il podio. Grazie mille a tutti, soprattutto alla stilista, agli organizzatori per questo meraviglioso concorso. Spesse volte mi capita tramite le collaborazioni con gli stilisti, ma soprattutto con i meravigliosi abiti di Miriam, di gareggiare in differenti concorsi e soprattutto di indossarle anche ad eventi importanti tipo la Milano Fashion Week o eventi abbastanza di gran galà della moda. Per me sono opportunità importanti, soprattutto far valorizzare l'importanza in questi eventi del ruolo della donna, sia nell'ambito della moda ma anche nell'ambito mio lavorativo, essendo anche una ricercatrice nel contesto sanitario. Grazie a tutti. Brava Mariangela, vuoi dirci quale fascia hai vinto questa sera? Ho vinto come fascia la prima classificata nell'ambito della mia categoria delle trentenni e soprattutto ho vinto la fascia per quanto riguarda lo sponsor della stilista Miriam. Facciamo una precisazione sull'abito di Mariangela, che era un abito sartoriale su misura rosso, con un corpino in paillette e una gonna in tulle molto ampia adatto per numerosi eventi di gala. Grazie a tutti per l'occasione, grazie pubblico e grazie a te Leo. Bene, grazie e alla prossima sempre con la signora Miriam Tirinzoni.